la gatteria l'estate vi dà il benvenuto in questa villetta a cameri progettata dall'architetto vittorio gregotti di novara e realizzata nel 1969 villetta di testa con giardino perimetrale di 200 metri quadri nel 2017 è stata completamente ristrutturata internamente elevando le prestazioni energetiche e portata alla classe b zona molto tranquilla ingresso indipendente e completa di box auto all'interno accediamo al corridoio che ci porta la zona giorno collegata al giardino privato riscaldamento a pavimento infissi in pvc doppi vetri e tapparelle elettrificate bagno di servizio con doccia e comoda cucina abitabile piano zona giorno di 60 metri quadri una comoda scala ci porta alla zona notte dove troviamo due camere più bagno e ripostiglio questo è il bagno padronale con vasca idromassaggio un'ampia cameretta che come vedete può essere adibita anche a matrimoniale ed infine la matrimoniale con cabina armadio nella zona notte sono state utilizzate tutte porte a scrigno e intravediamo il locale ripostiglio lavanderia ti aspettiamo per visionarne insieme un saluto da Mauro grazie a tutti grazie a tutti